E' Gaby Derri! E' Cuglio Fati! Che mi racconti? Ti devo dare una bella notizia. Domani parto per la Costa Rica. La Costa Rica? Ma non c'eri stato già? Si sono stato un anno e mezzo per lavoro. Ah si un po' di tempo fa mi ricordo. E' praticamente che è successo che ieri mattina riceve una telefonata. E sul display appare un numero che chiamano dall'estero. Pronto? Pronto? Ciao sono Jessica. Jessica chi? Jessica da Costa Rica. E io ho dato un po' di numeri all'epoca, un sacco di fame e beh stavo là. Dimmi Jessica, io volevo dire che qui c'è il tuo bambino. Il mio bambino. Che bambino scusa? Bambino figlio tuo. Figlio mio. Di chi? Mio e tuo. Mio e tu. Ho detto Jessica forse hai sbagliato la persona. Poi ho detto scusami che ho una chiamata sotto. Ti richiamo. E ho chiuso. Ho fatto bene. Questi sono brocchi. Ho pensato che questa è la classe che ha fatto che va a chiamare un pollo e giocava a mettere un bacio al naso. Ha chiamato il re. Di nuovo. Hai chiamato varie volte e ho rifiutato la chiamata. Ho fatto benissimo. Questa è una truffa che non bisogna cadere perché ti tolgono la pelle. In serata. Su WhatsApp? No. Ho visto una fotografia. Questa mi ha mandato una fotografia. Eccolo te. Sua. Fotografia sua. Ma non da sola. No. Con il bambino. Ah. Sì. Ho guardato bene il bambino. In effetti. Non una scherza. Veramente. Mi sono fermato un attimo a riflettere. Però bisogna un attimino un po' ponderare le cose. I fatti. Bisogna vedere se è da sì o non è da sì e non giudicare subito le situazioni. Giusto. Hai ragione. Ho rivisto di nuovo la foto. Ho ingrandito il bambino. Mi sono guardato uguale. Voglio uguale. È bene. Allora. Prova. Ce l'ho qua la foto. Lo vuoi vedere? Sì. Guarda pure tu. Mi somiglia il bambino. Il bambino. Il bambino. Vedi come mi somiglia. Guarda bene. Gli occhi. Sì. 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 Questa è Jessica. Sì. L'avevo capito. Ho richiamata Jessica. Ho detto. Jessica parto domani. Vengo subito. Vi forse. E poi... No no. Ne facciamo 5, 6, 7 di bambino. E dici? Sono fatto un affare. In questo posto di Quotarica. Sì. Ma vengo. Però i bambini gli somigli è vero? Qua. 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 A capta tagliata. Allora voglio. Bambini. Sì. Auguri eh. Grazie.